da Villa Nobel ai microfoni di R101 abbiamo Angelina Mango ciao Angelina grazie dell'invito grazie a te di essere qui è bello averti qui siamo contenti dopo l'esplosione della sera di apertura ti abbiamo visto ieri sera eh in accompagnamento come come te lo stai vivendo questo festival? Me lo sto vivendo bene eh all'inizio bene come? No bene bene nel senso che all'inizio ho avuto un paio di giorni così 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 un po' attesa da quando ho fatto le prove generali sì eh mi son presa bene perché quel palco è bellissimo fa bene alla salute proprio pensa che in realtà tutti da anni dicono che è un palco che terrorizza sì sì la sensazione però da chi ti guardava appunto da casa era di una grandissima energia e libertà questa canzone ehm ti è davvero molto cucita addosso io non so che tu legame abbia con Madame ehm e con Dardast eh però è una canzone che è davvero tanto tua beh sì quando l'ho scritta ho pensato tanto alla mia vita e a a tutti gli alti e bassi in cui mi ha portato e mi sono trovata molto bene con loro perché mi hanno mi hanno dato mi hanno dato degli stimoli assurdi anche grazie alla loro sensibilità il palco di Sanremo fa paura fa proprio tanta paura e io ho paura anche per le prossime serate però dall'altro lato è un palco e io voglio sempre cercare di sentirmi il più possibile a casa su qualsiasi palco senti tu hai scardinato un concetto che io io ho tre figli e difendo strenuamente a casa la bellezza della noia tanto che i miei figli la roba della sono annoiato non l'hanno mai detta ma noi facciamo del gran niente e difendo quello che proprio è il tuo concetto ovvero la noia è quel momento in cui tu alla fine stai sereno con te stesso a fare del gran niente che però è bello sì ti dedichi un attimo a te quando si è pieni di cose da affrontare è difficile farlo invece i momenti di noia sono essenziali poi è chiaro io sceglierò sempre gli alti e bassi nella vita però cioè tu dici più che quel concetto lì c'è una vita di noia non ce la potrei fare però dei momenti di noia nella vita servono e l'ho imparato da poco senti ma questo questa cosa molto carina che stai realizzando qui a Sanremo della noioteca com'è che è impostata perché io vorrei venire da quando l'ho letto voglio assolutamente venire ma che faccio nella noioteca si fa ricreazione praticamente cioè immagina di essere una bambina che va lì e può farsi le treccine colorate le collanine i trasferelli c'è pure un oracolo da dove sconere le frasi hai proprio i trasferelli i tatuaggi finiti? con i miei tatuaggi ci sono il maialino la rosa varie cose l'orsetto ma è proprio bello io ci ho passato tanto tempo in realtà vabbè ti passo a trovare perché mi sembra un luogo del cuore domani sera venerdì sera dei duetti il tuo è un duetto ovviamente particolare perché proprio la rondine del tuo papà è stata una scelta abbastanza distinto devo dire la verità una volta presa la decisione di fare un omaggio ed è stata lunga invece quella di scelta perché poi penso a parte quello anche magari il dubbio di poi diranno che sono una paracula che scelgo una canzone di papà no in realtà io avevo volevo soltanto essere rispettosa sì e non ho mai cantato nulla di suo però penso che questo palco che che si meriti un omaggio su questo palco quest'anno e mi fa piacere essere io a farlo anche se sarà molto difficile aspita però è anche molto giusto secondo me e la rondine l'ho scelta perché mi sono messa al piano a provarla e mi sono innamorata di dell'anima di quella canzone che bello mi hai toccato quando me lo raccontavi moltissimo ascolta angelina parte riparte il tuo tour sì sì adesso lo vorrei allora il 17 aprile al fabric con con la mia band a milano e sarà uno spoiler una data evento pare una pazzia che spoilererà più o meno il tour di ottobre ok tutta l'italia va bene quindi bisogna andare lì prendere vederti dal vivo perché io che dal vivo ti ho vista a spacchi davvero grazie grazie di essere venuti ai microfoni di r101 grazie angelina mango r101 r101 r101